Buongiorno a tutti, oggi è una giornata carica di frustrazione per me, a parte frustrazione è una parola che per me è difficilissima da dire perché mi si impolpetta tutta la lingua, giornata frustrante, perché uno perché sono dovuta andare al supermercato e per me è la morte, non ne avevo voglia e quindi mi sono dovuta forzare, ma dovevo comprare determinate cose specifiche e per forza, due perché l'andata, la gita al supermercato a sto giro è stata particolarmente dolorosa, parliamo di prezzi, è una domanda che mi fate spessissimo soprattutto su Instagram, ma anche sotto i video di YouTube, ma anche su Instagram, anche quando pubblico storie eccetera eccetera La domanda più quotata è, ma è tutto così caro negli Stati Uniti? Sì, oggi non me ne vogliano gli statunitensi, ma oggi è giornata troppo frustrante, premessa doverosa è quella per cui, a parte che sappiamo che i prezzi sono aumentati ovunque nel mondo, e va bene, anche in Italia me lo dite sempre, ok, ma secondo me non a questi livelli, non su tutto quantomeno, noi siamo negli Stati Uniti ma con uno stipendio italiano, questa è una precisione doverosa da fare, perché con uno stipendio americano probabilmente le cose, allora, a parte che anche chiunque qui si lamenta dei prezzi, ma anche chi ha uno stipendio americano, le poche persone con cui ho parlato chiaramente, sto parlando sempre del mio orticello, parlo sempre del mio orticello, non voglio generalizzare e allargare le maglie perché non mi compete, ma questo rialzo dei prezzi chiaramente colpisce anche chi ha uno stipendio americano, scusate dico americano, lo so Lucy, perdonami se mi stai guardando, dovrei dire statunitense, ed è una cosa che abbiamo dentro, se noi parliamo dell'America parliamo comunque degli Stati Uniti, non parliamo né del Sud America né del Canada, lo so, è una roba un po' così, va bene, andiamo avanti, oggi sono andata al supermercato perché avevo bisogno di comprare 3-4 cose, una cosa non ho trovato, il radicchio, il radicchio non so se l'abbia mai comprato da quando sono qui, ma forse d'estate mi è capitato di trovarlo, adesso no, o forse me lo sono sognata, oppure l'ho visto in altri supermercati, cosa che può essere, diciamo che nel supermercato che c'è più vicino a casa non c'era, e lo volevo perché, perché oggi per me, venerdì domenica, avrò i miei sponsor a cena, se avete seguito l'ultima diretta che ho fatto, lo sapete perché ve l'ho raccontato, avrò i miei sponsor a cena, due famiglie su tre a cena, e farò la pizza, quindi sarà pizza night, qui stavate in casa, chiaramente le mie pizze tonde, questa serata mi costa praticamente come se dovessi portarli in una pizzeria media in Italia, perché, cioè, vabbè, allora, io vorrei fare una cosa più italiana possibile, no, trovare gli ingredienti italiani, o italianizzati, oppure ingredienti, diciamo, non made in Italy, ma cose italiane preparate negli Stati Uniti, come nel caso della mozzarella, per esempio, è molto costoso, molto, enormemente costoso, io me ne rendo conto, se trovi del made in Italy, è probabilmente ancora più costoso, tranne un paio di eccezioni di cui parlo oggi, e lì, cioè, te la devi metter via, io lo capisco, noi facciamo delle scelte alimentari, e quindi andiamo molto spesso a spendere tantissimi soldi, quindi è chiaro che siano delle scelte, ma da quel che vedo, costa tutto, tantissimissimo. Allora, che cosa ho trovato? Oggi sono andata alla ricerca dei savoiardi, i savoiardi, allora, io non conosco questa marca, la marca è Forrelli, dice made in Italy, quindi va bene, made in Italy, io non so, da una, comunque una corporation americana, boh, non so che dirvi, io non penso che siano fatti in Italia, perché made in Italy, sì, ma la corporation americana, e quindi, è statunitense, scusate, non c'è scritto da dove vengono, quindi secondo me non sono fatti in Italia, ma io di etichette non ne capisco niente, c'è scritto questo, e quindi è USA, non lo so. Allora, i savoiardi quali chiamano Lady Fingers? I Lady Fingers sono i savoiardi, quelli duri, per molti saranno gli unici savoiardi possibili, per me che sono sarda, i savoiardi, e devo dire che questa è stata una mia tara mentale, io stavo cercando nella mia testa i savoiardi di Fonny, i savoiardi sardi sono molto più buoni, sono più larghi, più lunghi, e più piatti, ma forse non è neanche questione di essere più piatti, è che sono molto più morbidi, tipo pan di spagna, per capirci, non è proprio un pan di spagna, ma comunque sono molto diversi, io i savoiardi duri, come li chiamo io, non li ho mai graditi, non mi piacciono, non mi è mai piaciuto fare il tiramisù con questi, ma è l'unica cosa che abbia trovato, io il tiramisù in realtà lo faccio con i pavesini, però vabbè, sul tiramisù potremmo aprire una questione che non si chiuderebbe mai, perché è questione di gusti, ma ce lo facciamo andare bene, ho trovato questi savoiardi, c'erano anche quelli di Matilde Vicenzi, che costavano due dollari in più, questi savoiardi, io ne ho prese tre confezioni, perché non ero sicura che mi bastasse una confezione, allora mi piace molto che lo scontrino sia diviso, aspettate che cerco di eliminare delle cose che non siano interessanti, diciamo, sia diviso in categorie, e quindi bevande, snack, non vedo, latticini, no food, eccetera, eccetera, mi piace molto questa cosa, perché ora che io devo andare a cercare, più o meno so dove andare, so dove andare, sì, i Lady Fingers venivano un dollaro e 89 il pacco, che francamente mi sembra molto molto onesto, mi sembra quasi poco, devo dire la verità, ne ho prese tre confezioni, ahimè, ho trovato l'indoor, molti di voi stavano vedendo anche le storie che ho pubblicato su Instagram oggi, ma questo video uscirà, non uscirà oggi, quindi così, la particolarità è che ci fossero due, c'erano questi rossi, quindi quelli al latte, che per me sono i più buoni, il pacco assortito con latte bianco e fondente, quindi rosso, dorato e blu, e poi c'erano due pacchi che io non ho mai visto, non so se li facciano solo per le, cioè se in Italia non vengano portati, ma non lo so, due edizioni limitate natalizie, uno era peppermint cookie e l'altro forse solo peppermint, non mi ricordo, perché ora le storie ce l'ho su questo telefono, quindi non posso controllare, ma erano due, vabbè le confezioni sono comunque deliziose, una era bianca con il, che poi il sapore del candy cane, no, quindi alla menta, menta zuccherata e l'altro invece era verde, proprio i colori natalizi, quel bel bianco perlato natalizio e il verde, bellissimi. I lindor li ho pagati quanto li avremmo pagati in Italia, più o meno, sono 240 grammi, non so esattamente quanti ce ne siano, non mi pare ci sia scritto, ma era un prezzo molto normale, stava sui 5 dollari e qualcosa, vedete che nonostante queste divisioni, io non sono in grado di, ah ecco, no, scusa, perché non c'è scritto l'indor, c'è scritto candy, milk, chocolate, sono 5 dollari e 68, il dollaro e l'euro valgono lo stesso tanto, quindi che io vi parli in dollari, che vi parli in euro, più o meno è lo stesso, è lo stesso prezzo, quindi ve li dico in dollari, ma vabbè, non mi metto a convertire ogni prezzo in euro, avete presente quando c'è caldo come adesso entrate nei supermercati e trovate i panettoni? Gli ho trovati anch'io! Allora, sembrerebbe Balocco, giusto? Questa si chiama Bauducco, Bauducco, ma perché sto urlando? Scusate, perdonatemi, me ne sono accopi, mi sono fatta un attimo prendere dall'emozione del panettone, che io detesto, cioè a me non piacciono i panettoni, tranne quegli artigianali veramente buoni, allora sì, ma il panettone è confezionato così? No? Allora ho preso, c'era quello normale con uvette e canditi, io ho preso quello al cioccolato, che generalmente non neanche preferisco, ma ne ho presi due in realtà, ho preso il vanilla panettone e il chocolate chips panettone per averli, per averli e eventualmente per regalarli, che ne so, non... La mia amica italiana mi ha detto, Ale, se trovi panettone, prendilo, perché poi non li troverai mai più, non si sa mai e quindi, poi vabbè, all'estero lo sai, ti fa andare bene qualsiasi cosa e quindi magari diventerà la cosa più buona del mondo, non lo so. Quindi due panettoni... Ah, perfetto! Sono brasiliani! E vabbè, li regaleremo ai brasiliani, magari! Questo bauducco mi doveva... forse doveva suonare, vabbè! Poi, no, quanto costano i panettoni? Diciamo che rispetto a un panettone normale, questo mi sembra anche piccolino, sicuramente piccolino, costano un po', ma sinceramente pensavo di trovare dei prezzi più alti, ma bisogna dire anche che se trovi magari il panettone motta, il panettone italiano, sicuramente costerà una fucilata di più. Quindi vabbè, io comunque due li ho presi e via. Questi costano 6 dollari, 6 dollari e 84 vaniglia, 6 dollari e 86 quella al cioccolato. Poi, sono andata a comprarmi le banane, visto che, come vedete, quando faccio la spesa online me ne arriva solo una! Quindi sono andata a comprarmele, ho comprato un altro sacchetto di mele Fuji, la mela è la frutta preferita di Eleonora, devo dire che è l'unica frutta, l'unico frutto che probabilmente piaccia a tutti e tre, a tutti e quattro, mi includevo io, tre piccoli avocado da mangiare. Ecco, fermi! E della frutta non ve ne parlo! L'avocado è una cosa che invece qui complice la vicinanza del Messico, probabilmente, perché, per esempio, da Aldi le verdure che io compro sono messicane e costano meno di quelle statunitensi, infatti anche questo messicano costavano 89 centesimi l'uno. Sì, sono piccolini, ma, per esempio, mi sa che da Aldi in questi giorni sono in offerta a 89 centesimi l'uno, ma quelli grandi. Quindi l'avocado in generale è una cosa che costa molto meno dell'Italia. E quindi, vai, una l'abbiamo trovata. Allora, produce, che sarebbero i prodotti, la frutta e la verdura. Le banane le ho pagate 81 centesimi. Tutte quelle banane. Secondo me c'è stato un errore. La bilancia, quando ha pesato, secondo me ha fatto un errore, perché 81 centesimi, 4 banane, non ci credo. Anche perché stavano a 2 dollari e 61 la libra. Forse erano in sconto, non me ne sono accorta. È difficile che sbaglino, eh, i conti. Vabbè, pazienza. Le mele Fuji erano 3,99 il sacchetto. 4 dollari queste mele qui. Sono piccoline. Quanto sono? 3 libre. Un chilo è 36, quindi un chilo e mezzo. Poi, allora, ho preso la puff pastry. La puff pastry, questa è una cosa che sto guardando da quando sono qui. Io ho sempre adorato fare le torte salate. Le ho sempre fatte con la... Anche la sfoglia. Ma ho sempre preferito la brisè, che ho provato a fare a casa due volte. La seconda volta non è uscita male, ma rimane sempre molto corposa, molto sabbiosa, no? Rispetto a quella comprata. Che devo dire, io preferisco. Preferisco. La sfoglia, ora. Io guardavo sempre questa. C'erano sempre cose salate, cose, scusatemi, cose dolci disegnate. Guardavo gli ingredienti e c'era sempre del... Come si dice? Del... Ah, qui però non c'è. Sì, c'è scritto. Allora, oh, guardavo un'altra marca. C'era sempre lo zucchero come ingrediente. Non primo ingrediente, però comunque molto vicino. Qui c'è un'indicazione di zucchero, ma... Fino a che ieri abbiamo fatto una piccola festicciola di Halloween a scuola e una ragazza tedesca mi pare ha portato dei piccoli rolls di pasta sfoglia col salmone che erano di vini e ho chiesto, quindi ho chiesto un info sulla pasta sfoglia. Prendila perché... la puoi usare per tutto, cioè è il neutro, come va fatto. E quindi, ragazzi, niente, io l'ho presa, tra l'altro c'è scritto perfect for sweet or savory, quindi per dolce e per salato, grazie. Ne ho prese due confezioni perché ho detto, guarda, le prendo per averle anche perché oltre la pizza magari preparo una torta salata per averla. Ho preso anche della guacamole per... Scusate, questo video è lunghissimo. Non fa niente. il prezzo della pasta sfoglia. Vado alla cassa automatica perché vado sempre alla cassa automatica, se posso e mi è venuto un colpo. Costa 4 dollari e 13 l'uno. a parte che sono rettangolari, quindi dovrei fare la... Sì. Dovrei usare la... Vabbè, poco male. In qualche modo si fa, anche se preferisco quelle tonde. 4 dollari e 13 l'una. Ho detto... 4 dollari e 13 l'una. È tantissimo. È tantissimo. Ho preso un... Gli unici limoni che ci fossero. Questi sono... statunitensi, sì. È una bag di limoni. Mi è costata... 3 dollari e 29. Anche qui il prezzo piuttosto in linea con l'Italia perché... a seconda di quelli che prendi. Parmigiano. Parmigiano Sargento. Questo... Parmigiano. Parmesan Sargento. Questa è una marca che costa un po' di più ma le altre... Craft, ok, che c'erano... Non c'era. Craft? Forse sì. Boh, non mi ricordo. Non c'erano. Sargento 249. Io non posso rinunciare al Parmesan. I bambini lo vogliono nella pasta. Lo metto spesso nelle poltettine di verdura, ok? Lo metto in molte cose. È quello che ti abitui, ti manca il parmigiano, ha voglia. Se manca, però è una cosa che in casa mia ci deve sempre essere. Costa tanto, sì. Però è così. Un cream cheese. Questo è un marchio generico. Philadelphia costa molto. Ma va benissimo anche questo cream cheese. sono 227 grammi e costa cream cheese 2,86. Quindi anche qua siamo abbastanza in linea. Poi, io ho la macchina dell'espresso. Lì da qualche parte se c'è ancora casino. c'è la macchina per l'espresso. Abbiamo anche una macchina di caffè americano che non usiamo perché sinceramente mio marito è l'unico che beva caffè. Io una volta ogni tanto mi faccio un deca ma lui beve il caffè e quando è a scuola ha la sua tazza termica e si fa il caffè a scuola. Infatti, sul microonde abbiamo anche le capsule che usa a scuola con la macchina con le capsule. Abbiamo una macchina per il caffè in polvere. Siccome non a tutti piace l'espresso qui quando invitano qualcuno a casa offrono il caffè e offrono il caffè lungo quindi ho detto senti vabbè ma ce l'ho facciamola funzionare ho preso dei filtri prima volta in vita mia ho preso quelli che costavano meno ho visto che li suddividono per tazze questi sono filtri da 4 tazze ci sono anche quelli più grandi mi pare vanno da 8 a 10 tazze ma non è il nostro caso non è l'utilizzo che ne facciamo noi e quindi va bene così e questi li ho pagati 90 centesimi 94 centesimi e ho preso il caffè e ho preso questo ho preso sinceramente un po' quello che costava meno questo è polvere di caffè media tostatura colombiano da quanto sei figliolo da quanto sei 272 grammi quindi caffè in polvere non caffè macinato ecco non istantaneo oddio no perché c'era anche le bustine di caffè istantaneo 4 dollari e 67 onestamente ce ne sono di molto più costosi a me frega niente quindi proprio sinceramente ho voluto provare anche questo ora io a vederlo visivamente galbani parmesan cheese non l'avevo ancora preso qui dice grated cheese mentre qui è shredded vero? shredded questo grattugiato fa queste lamelle ok sanno tanto di buccia del parmigiano per capire la consistenza e il livello di sapidità questo è grated quindi è grattugiato ma rimane comunque una polvere con dei pezzi un po' più spessi ecco perché io penso sia lo stesso quindi con quella sensazione non mi dà l'idea di avere quella finezza del pezzo di parmigiano del cuore del parmigiano grattugiato però non avevo ancora provato il galbani e quindi l'ho preso quelli in scatola ma anche quello che prendo da Aldi che finora onestamente penso sia il mio preferito costano di più di quelli in busta però ripeto il parmigiano non si è pomola quanti grammi di grazia 226 grammi questo è 141 226 grammi e mi costi 3 dollari e 67 quindi proporzione forse conviene questo l'altro ne costava 2 e 49 forse conviene quello chissà carotine queste erano in offerta costavano poco è una bella bag di carotine che io uso anche nelle zuppe le mangiamo crude le mangiamo cotte va benissimo sempre e costavano un altro mi pare sotto al dollaro sì 99 centesimi così come 99 centesimi anche questa bag di sedano della marca Adolè ho comprato un sedano credo di averlo ordinato da Alibi non mi ricordo il marchio ed era delizioso ho detto ma era tanto che non mangiavo un sedano così buono 99 centesimi ho preso questo da lavare perché i cuori di sedano costavano 2 dollari e 90 una cosa del genere ma ho detto no vabbè me lo lavo va bene così poi cosa ho preso ah allora ho preso questo non conosco la marca non ho idea di niente questo è un wash and shampoo quindi è un detergente per i bambini per la pelle delicata e i capelli delicati all'olio di cocco la marca è She Moisture non mi chiedete niente non so assolutamente niente avevo bisogno di qualcosa di un pochino meno aggressivo soprattutto per Eleonora se la se la giocano un po' tutte e due in questo momento per Eleonora e l'ho pagato 5 dollari 82 diciamo non è un prezzo particolarmente diverso da tanti altri prodotti che possiamo comprare in Italia organic no bio capito quindi anche qua ci siamo poi che cosa ho comprato visto che ero lì a prendere il parmigiano ho trovato anche il pesto il pesto di Giovanni Rana il pesto fresco è buono il pesto in vasetto che troviamo anche in Italia nelle conserve tipo quello Barilla è una roba guardate ma non disgustoso oltre proprio pesto fresco c'è sia Giovanni Rana che Galbani forse c'è un altro marchio c'è un altro marchio che fa il pesto non me lo ricordo perché io sono andata mi pare sempre tutte le volte su Giovanni Rana 3 dollari e 49 198 grammi 3 dollari e 49 un pelino più caro che in Italia forse un dollaro in più però da un prodotto di Giovanni Rana me lo aspetto quindi non mi sconvolge più di tanto no non mi sconvolge affatto ho preso una tris per comodità perché non avevo voglia di insacchettare un tris di zucchini squash quindi tre tre diverse tipologie di zucchine l'ho pagata l'ho pagata l'ho pagata l'ho pagata sarà così difficile da trovare zucchine 3 dollari e 49 non è poco affatto non è poco affatto si è staccata un pezzo di etichetta non sappiamo quanto vengono poi ho preso per domenica ho preso sia le tortiglia chips che la guacamole ho preso una guacamole classica qui dice formato famiglia sono 425 grammi quindi 400 grammi di guacamole che costa 5 dollari 99 6 dollari costosa ma la guacamole costa e poi ne ho preso un'altra per me perché io adoro la guacamole e ho preso la versione chunky sono la stessa marca si questa scusate la saliva di traverso ah ho bisogno d'acqua aiuto scusate ok ok la versione chunky quindi a pezzettoni questa viene questa sono 22 213 grammi quindi la metà fondamentalmente di quella e viene a costare 3 dollari e 17 poi ho preso un pezzo di allora io non lo so se sia adatto questo però la carne lo stesso ha dei costi esagerati tanto questo è un filetto suppongo non lo so sto pezzo di maiale 5 dollari e 49 quindi piuttosto economico vorrei provare a farlo nella slow cooker quindi nella crockpot lo voglio provare devo ancora finora nella crockpot ho fatto lo stesso tipo di carne ricomprato non lo comprerò più il pezzo era buonissimo ma quella carne è trattata perché ho provato a farlo una volta con le spezie indicate nella confezione perché c'era una specie di bustina e ho usato il brodo pronto orrido la seconda volta l'ho fatto senza brodo quindi con le mie verdure quindi si è formato un pochino di brodo vegetale e con sale pepe niente di che quindi come se faceste un lesso a casa stesso sapore acidulo quindi quella carne non era scaduta era una carne perfetta è una carne trattata però per forza per forza proverò con questo pezzo di carne e devo dire che non costa molto ma sinceramente sono andata un po' al risparmio e poi volevo provare a fare il maiale poi ho preso questo BBQ rub sono delle spezie con cui rub massaggiare la carne prima di metterla al barbecue mio marito una volta sola ha provato a fare le ribs quindi la la baffa come la chiamiamo noi di costolette sono venute una roba deliziosa ho preso questo non so se sia la stessa che aveva preso lui nel dubbio l'ho ripresa questa questo vasetto da 155 grammi mi costa l'ho visto prima 3 dollari e 0,2 poi ovviamente vi sto parlando di vi sto parlando di in questo caso a tutti questi prodotti quando li andate a comprare voi dovete aggiungere le tasse ok burro burro non salato mi piacciono molto queste confezioni perché il burro viene venduto in questi piccoli stick non è nulla di innovativo non vi sto dicendo niente di particolare allora o vengono venduti in questi stick così in questo caso nella confezione ce ne sono 4 e qua dietro come da noi ci sono i grammi qua ci sono i tablespoon quindi i cucchiai da tavola oppure le unità di misura o le cap quindi suddiviso così mi piace questa versione ha questi stick così la versione precedente forse era di un altro colore non mi ricordo ma c'è scritto le divide addirittura in la metà di questi quindi fanno non 4 bustine ma 8 bustine mi piace così mi piace quanto costa il burro abbastanza abbastanza ma mezzo chilo no sono 436 grammi non è mezzo chilo e il burro costa 4 dollari e 63 però diciamo che io sono abituata a prendere o 125 o 250 non è tanto perché se voi prendete questi sono 400 cosa ho detto 430 453 grammi quindi come prezzo inizialmente mi è sembrato tanto ma poi ho effettivamente valutato che fosse tanto poi io ora ultimamente il burro lo sto usando spesso perché sto facendo biscotti cose però non è una cosa che io in cucina uso sempre lo uso raramente devo dire la verità mission tortiglia strips ah non ho preso le tortiglia quelle triangolari ma ho scelto di prendere queste sono delle striscette delle strips e basta 4 simple ingredients speriamo che non siano troppo salate le ho prese per la guacamole quanto abbiamo pagato queste strip le abbiamo pagate le abbiamo pagate sì no non le abbiamo pagate sì dovrei imparare a leggere giusto oh eccole qua 2 dollari 27 non male 2 dollari 27 è un bel paccone grande perché sono 312 grammi non male eh ma mi stavo perdendo una busta dicevo ma abbiamo già finito sono 30 minuti vogliamo toccare un tasto dolente riguardo roba prodotti italiani e tocchiamolo questo tasto dolente volevo fare alcuni pizza con salame piccante e provolone ho trovato il provolone e non è un made in italy questa marca boar's head quindi testa di cinghiale è un'ottima marca perché ho provato diverse cose e infatti sta nella zona fancy dei salumi e dei formaggi dove ci sta anche la mozzarella se per quello io vi dico solo che un ecco un etto di salame piccante quindi di pepperoni costa 4 dollari 49 e ripeto non è un prodotto italiano 226 grammi due etti di provolone costa 5 dollari 99 io ospiti li ho presi per quello volevo fare insomma replicare un po' oltre la margherita volevo fare anche provolone e salame piccante volevo fare anche gorgonzola che ho preso forse l'avete visto in qualche altro video il gorgonzola in bricioline con le noci volevo fare insomma provare dei gusti diversi per non fare tutte a margherita oggi mi costa pago come diciamo in sardegna cioè mi costa non poco due confezioni di pomodori campari 4 dollari quindi 2 dollari questa 2 dollari quest'altra e manca una cosa però ho comprato ah ecco degli elattici per ele allora noi gli elattici li perdiamo come se fosse acqua tale madre tale figlia ho comprato 60 pezzi ho comprato un un fottino di elastici e li abbiamo pagati li abbiamo sempre io pagati 3 85 che voglio dire per la quantità o si rompono solo a guardarli oppure sono devo dire per la quantità sono anche economici e va bene questo mi pare sia il fatemi vedere se ho dimenticato qualcosa no mi sa che abbiamo c'è fuori ah c'è uno che fa usare le soffri a foglie abbiamo sviscerato in abbondanza la questione dei prezzi di oggi fatemi sapere se vi possono interessare questi video sui prezzi così giusto per darci un confronto no non si possono confrontare sono esperienze completamente diverse abbiamo stipendi completamente diversi qui si vive una vita completamente diversa e quindi non possiamo assolutamente paragonarci quindi è un confronto no allora confronto era giusto è un confronto non è un paragone è interessante sapere visto che me lo chiedete spesso come siamo messi a prezzi ora ve l'ho detto vi ho raccontato un po' quello che ho comprato oggi ci vediamo al prossimo video e non so grazie a chi è rimasto finora perché sono 34 minuti ciao